Le città siciliane si preparano ad accogliere le reliquie di San Giovanni Bosco, che arriveranno anche a Caltanissette e poi a San Cataldo il prossimo 9 novembre. E ancora in fase di organizzazione e preparazione la festa per l'accoglienza delle spoglie del santo fondatore dei Salesiani. A Caltanissette arriveranno in cattedrale ancora top secret il programma, mentre a San Cataldo verranno accolte alle 15 all'oratorio Salesiano e poi trasportate in chiesa madre dove si terrà la celebrazione eucaristica. La mattina seguente le reliquie saranno all'istituto Maria Ausiliatrice e dopo la messa delle sette partiranno per Pietra Perzia. L'urna delle piemontese Don Bosco sarà in Sicilia dal 1 al 20 novembre, prima tappa del lungo pellegrinaggio Taormina. Il tour, iniziato sei anni fa nel 2009 in occasione del 150esimo della fondazione dei Salesiani, terminerà nel 2015 per il bicentenario della nascita del sacerdote che dedicò la sua vita ai giovani. Il viaggio tocca 130 paesi di tutto il mondo. In Sicilia l'ultima tappa sarà Alcamo.